Ciao, bentornati sopra l'inventola. Oggi siamo qua per parlare di questo libro dalle vibes un pochino più natalizie o dicembrine, diciamo, di fine anno e periodo delle feste. È un libro che ho letto nel mese di gennaio e ho apprezzato molto. L'ho letto dopo aver visto la serie, la serie ovviamente l'ho vista nel periodo natalizio su Netflix e quello che mi ha stupita è che per la prima volta è come se il libro fosse esattamente il copione della serie. Ovviamente ci sono alcuni dettagli, alcune scene che sono state tagliate da una parte o aggiunte dall'altra, ma ho trovato le stesse atmosfere e mi ha regalato la stessa gioia, la stessa serenità. Il libro è diviso in capitoli dove la parola passa da uno all'altro dei nostri protagonisti, perché ogni capitolo ha come titolo il nome di chi sta effettivamente parlando nella voce narrante di quel tratto di libro. Questo perché appunto loro comunicano tramite una moleschina rossa che è stata lasciata da Lily nella sua libreria preferita e è stata trovata da Dash che ha dato seguito a questo rapporto epistolare tra sfide, racconti personali, anche momenti comunque di grande apertura ecco, loro si passano il taccuino e rischiano in alcuni punti di perdersi, si ritrovano, è tutto estremamente vivo, non c'è mai un momento morto, un momento in cui la tensione cala nonostante gli alti e bassi delle vite dei protagonisti e del loro rapporto, se così si può chiamare. La serie mi è piaciuta tantissimo perché è veramente natalizia, scintillante, colorata, piena di energia, è proprio bella, bella da vedere, è quella parte del Natale non ovvia, non stucchevole, non è l'ennesimo film banale, è sempre la stessa storia, due che si incontrano e si innamorano sotto l'albero, potrebbe ma non lo è e questo la rende bella, la rende godibile e lo riguarderei, non sono una che riguarda tante cose perché mi annoio subito e soprattutto mi ricordo la trama, mi ricordo e quindi ci sono poche cose che rivedo, sono un po' le mie coperte di Linus e in questo caso questa serie è una serie che io rivederei. Il libro mi ha regalato, forse perché avevo ancora negli occhi New York, il Natale, loro due, erano, avevo delle immagini ben precise, il libro mi ha regalato forse qualcosa di più anche grazie al fatto di aver visto prima la serie. Diciamo che valgono una per l'altra, sono entrambi belli, forse se avessi letto prima il libro la serie mi avrebbe stupita per il modo in cui è stato trasposto il racconto, così diciamo che avendo ancora negli occhi la serie io ho ritrovato alcuni dettagli, però non ho avuto chissà quali slanci o particolari, perché appunto avevo già visto la serie da solo, è un libro natalizio estremamente godibile, bello, così come la serie, è veramente bella. Ho visto che ci sono altri libri, perché questa è una serie che per protagonisti Dash e Lily, per ora sono solo in lingue originali, però visto il successo magari arriveranno anche gli altri, non lo so, possono magari farò in modo di recuperarli. Non ho ancora letto le trame, quindi non ho idea se è il caso di magari aspettare un attimo, leggere nel periodo di Natale, come gestire la questione, però ho in stand by questa cosa, devo un attimo approfondire. Per il resto ve lo consiglio. Ve lo consiglio ora, che è febbraio, quasi marzo, nonostante sia un libro più che natalizio, però appuntatevelo nel caso, tenetelo lì per l'anno prossimo o per un momento in cui avete bisogno di qualcosa di bello, qualcosa che sia proprio come una coccola, una coperta sul cuore, ecco. Soprattutto se amate un determinato periodo dell'anno, se amate queste storie così leggere, ma allo stesso tempo significative, belle, avete i libri, avete le citazioni, avete una città che si apre piano piano alla scoperta, avete l'amicizia, c'è tutto, quindi è estremamente godibile come lettura. Io ve la consiglio. Meglio nel periodo natalizio, però mai dire mai, c'è chi ama talmente tanto il Natale o un tipo di scrittura che non si fa problemi sulla stagionalità. E basta, fatemi sapere se avete visto la serie e cosa ne avete tratto, se vi è piaciuta oppure no. Io vi aspetto al prossimo libro e per ora vi saluto. Ciao, buone letture!